Provate esigenze lavorative, congenze assolute, situazioni di necessità, martivi di salute. State a casa. State a casa. Attenzione, sono ambientati gli asseguramenti di borsone, congenze assolute, situazioni di necessità, martivi di salute. State a casa. Attenzione, sono ambientati gli asseguramenti di borsone. Io negatorio rispettare le distanze di sicurezza, di almeno un metro. Grazie a tutti.